no no vai riproviamola dai dai 3 secondi li togliamo dai 3 secondi li togliamo l'ho fatto solo un pochettino di cappellate dove non dovevo dai che ce la facciamo cascarci in pieno dai io quanto dobbiamo fare che già mi scurtavo 1 e 12 1 1 e e e e e e e e peccato 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 peccato